Ciao a tutti e bentornati al corso di Power BI. Scusate l'assenza, sono stato un po' impegnato in questi mesi e finalmente sto cercando di ritrovare il tempo per terminare il corso che avevo iniziato. Allora, ci eravamo rilasciati con il punto di come si relazionano le tabelle in Power Pivot. Quindi adesso passiamo un po' alla parte successiva che è praticamente il linguaggio DAX, che è il linguaggio cuore di Power Pivot dove possiamo andare con questo linguaggio a creare dei campi nuovi. Quindi il DAX, faccio una premessa, il DAX è un sistema, è un codice molto complesso e molto molto potente. Di conseguenza in questo corso che stiamo facendo non scendo assolutamente nei dettagli perché è proprio complicato. Cerco di farvi comprendere che cos'è, come si riconosce, come fate a creare gli oggetti basici. Poi alla fine delle due lezioni, perché spezziamo questo argomento in due lezioni, vi lascio un link come è stato fatto in Power Query per il linguaggio M, vi lascio il link del sito della Microsoft per vedere tutte le formule DAX con spiegazioni, esempi, eccetera, in modo che potete un po' anche approfondire in autonomia partendo dalle basi che vi do ora. Allora, i capi DAX, io qui ho fatto due punti perché in realtà sono due tipi i capi DAX. Un tipo lo potete creare a livello di tabella. Andiamo in un esempio, ad esempio ho tirato fuori un paio di semplici, vedete, quando entrate in una tabella i campi neretti sono campi DAX. Infatti qui c'è una barra della formula come su Excel e qui possiamo andare a creare delle formule. Quindi se andate in fondo al tracciato regolo della tabella che avete generato partendo da Power Query, poi è arrivata qua, trovate tutti i campetti verdi. Andate in fondo, vedete, aggiungi colonna, scrivete qui quello che volete e poi in un qualsiasi punto della colonna sotto, anche qui ho fatto un'altra colonna ad esempio, non importa dove premete, dove vi posizionate a scrivere la formula, andate qui e qui scrivete la formula. Quindi ad esempio facciamo uguale a questo campo, anche in questo caso premo a caso. Non serve che sia esattamente nella stessa ria del record perché non fa altro che rilevare il nome della colonna in questo caso. Se io premo invio, per capirsi, questa è una formula molto semplice, vedete, replica il contenuto di questa colonna qua. Quindi ho fatto una formula DAX che è un doppione di un'altra informazione, però questo è il principio. Quindi uno dei sistemi è creare queste colonne a livello di tabella. E quindi anche qua, quando creo una colonna, si crea un campo nuovo che poi posso esporre nelle pivot o nei grafici o in quello che devo costruire. Allora, guardandolo a livello di tabella, vi è da pensare che, ok, se faccio un'operazione, ad esempio guardiamo questa. Questa qui faccio altro che fare una conversione format di questa campo data qui, converto il risultato ottenendo il mese in forma descrittiva. Ricordiamoci che Excel, se una persona dell'estero che apre magari l'Excel in inglese o in cinese, la formula è intelligente. Quindi il risultato che espone è sempre sulla lingua dell'utente del software, praticamente, su cui è configurato. Quindi italiano luglio, prime tre byte del mese, inglese jul, e così via. Allora, guardando questo, sembra che noi facciamo praticamente delle formule a livello di record. E come dicevamo nelle lezioni precedenti, questo non è ottimale da fare su Power Pivot, perché lo strumento giusto per fare operazioni a livello di record sarebbe Power Query, che ha un motore apposito per fare queste cose qua. Power Pivot, però, bisogna sempre capire i benefici se fare una cosa da una parte o una cosa dall'altra. Ad esempio, in questa cosa qua, che faccio una formula semplicissima, potrebbe tornare utile se devo creare un campo calcolato qui, che dipende magari dall'informazione contenuta in un'altra tabella. Vedete, sotto qui ne ho un'altra. Se guardiamo anche il diagramma, vedete, questo è il flusso. Quindi io adesso sto lavorando qua, con voi, e questa è linkata con quest'altra tabella. Facciamo finta che questa sia la tabella dei fatti e che abbia 10 milioni di record. Questa, ipotizziamo che sia una tabella in una grafica e ha 10.000 record. Quindi significa che qui c'è una chiave che è univoca, quindi ogni record per questa chiave è univoco a se stesso. In questa altra tabella, che ha 10 milioni di record, quindi un bel po' di più, la stessa chiave è ripetuta più volte perché si ripete per dettagli differenti, misure, eccetera. Difatti vediamo uno di qua e molti di qua. Quindi che succede? Se io facessi il join all'interno di Power Query per fare questo calcolo lineare, io andrei a ripetere questa colonna qui che abbiamo aggiunto per 10 milioni di record. Quindi quando io la faccio in Power Query, ci ricordiamo che nel momento in cui importiamo il dato in Power Pivot, io vado a scrivere sul file questi record. Quindi vado ad appesantire il peso del file stesso. Se io invece la faccio qui, quindi torniamo sulla vista dati, la faccio qui, questo qua, e la faccio qui la formula, questa formula qua non pesa più sul file, ma pesa sulla RAM, perché questa qui non è altro che un testo scritto. Quindi quando Excel viene aperto e voi fate il filtro su una pivot o fate qualsiasi cosa, lui all'istante leggere il contenuto di questa colonna, calcolandola all'istante. Invece se l'abbiamo già precalcolata su Power Query, lui non la deve leggere, quindi ci mette meno, però pesa di più sul file. Quindi anche qua bisogna sempre valutare cosa sto facendo, lo faccio di qua o lo faccio di là. Quindi non è esclusivo che io faccia calcoli lineari, quindi a livello di record, solo su Power Query. Può esserci appunto il bisogno di farli su Power Pivot per ottimizzare le prestazioni del file. Proviamo a pensare ad un file che pesa 300 MB, compresso in formato XLSB che è binario, vi consiglio sempre questo formato. Magari facendo 5-6 campi così passiamo da 300 MB a 150 MB, quindi quando andiamo a tirarlo su in un server, ad esempio condiviso da tanti utenti, cambia, cambia, perché lì allora basta giocare tanto con la RAM, avere un po' di potenza sotto, ma riesce a gestirlo bene. Se invece lo carichiamo andiamo a occupar disco, quando lo tiro su a spostarlo, anche se devo salvarlo, corro più rischi e così via. Quindi questo è uno. L'altra cosa è che sempre in questo tipo di formule DAX, ricordiamo che ce ne sono due, adesso stiamo guardando solo la prima, generalmente vengono trattate per costruire dimensioni, quindi non misure, le misure sono numeri, praticamente il risultato di numeri. Noi qua possiamo fare sia dimensioni che misure in questo tipo di formula DAX. Tendenzialmente qui si fanno formule DAX sulle dimensioni perché appunto gli oggetti che creo a livello di tabella così li posso importare sulla pivot o nel grafico, quello che volete, sui campi riga, sui campi pagina, sui campi colonna e se il campo che creiamo è una, ad esempio questo qui vedete, è un campo calcolato in DAX che è nel retto, vedete, è un numero, quindi è una misura, lo posso mettere anche nel riquadro delle misure. Il secondo tipo di formula DAX è esclusivamente una misura, quindi quando faremo quel secondo tipo che è lo scopo finale di utilizzo di PowerPivot dal mio punto di vista, potremo creare solo misure. Allora, un'ultima cosa su questo tipo di formula DAX è che in realtà possiamo anche fare formule differenti da formule lineari, oltre a far formule che si connettono a più tabelle. Io posso anche fare delle formule complesse prendendo dei filtri, quindi se io faccio clic sulla pivot e filtro una cosa, la formula riconosce il contesto che io ho selezionato nella pivot e cambia comportamento. Oppure posso fare delle formule anche, ad esempio posso fare anche dei cumulativi, ad esempio ogni volta che trovo ICAP aggiungo 1, poi passo a upload e riparto da 0, quindi farebbe 1, 1, 2, 1, 2, poi qui ero arrivato a 2 e mi scrive il 3 così, quindi posso fare una specie di indice. Quindi lui ragiona tanto anche a livello colonnare, invece proprio qui lo fa anche lui se si vuole, ma non è proprio strutturato. Qui invece con delle formule complesse, lavorando in RAM, riesco a creare queste cose, che comunque ricordiamoci sono sempre, si autoricalcolano ogni volta che io cambio il contesto filtrato nella pivot. Quindi se filtro ad esempio luglio e ho tutti i mesi dell'anno, quando io ho filtrato luglio nella pivot, la formula si calibra sul range di record che io ho selezionato nella pivot. E questa è una cosa molto interessante. E che formule posso fare qua? Non le conosco. Allora, quando andiamo qui e facciamo un campo nuovo, ad esempio, se io andiamo qui che è vuoto, ad esempio l'ho già preparato, faccio FX, io qua trovo come su Excel tutte le formule disponibili in DAX. Premendoci sopra mi dice a che cosa serve questa formula e mi dà anche un suggerimento di come scriverla. Un'altra cosa, ad esempio guardiamo questa, qui faccio il format, converto in mese. Qui faccio, ecco, una formula importata che dovete imparare, è il Relate. E il Relate tendenzialmente lo utilizzate su quelle a colonna, così. Il Relate permette di importare il campo presente in un'altra tabella, quindi ad esempio questo campo qua si trova nella tabella Business Plan Month e si chiama Industrial Plan. Quindi questa tabella qua è qui, vedete? Qui c'è questo campo qua. Qui, in questo report, avevo l'esigenza di portarlo di qua. Non scendo nel dettaglio del perché avevo l'esigenza di farlo. Comunque ho dovuto portarlo di qua e per farlo ho usato la funzione Relate. La funzione Relate è molto importante, memorizzatela immediatamente, perché nel momento in cui create una pivot e andate a fare un doppio clic nella misura per esplodere il dettaglio di ciò che avete filtrato, di ciò che volete vedere, non è detto che compaiano tutte le dimensioni e le misure del modello, perché ricordiamoci un modello dati è fatto da n tabelle. Qua dipende sempre da come è costruito il modello, da come è costruita la pivot, eccetera, eccetera. Però, se quando fate il doppio clic, semplicemente vedete che, ad esempio, avete costruito più basandovi di qua e prendendo le informazioni di questa. Fate il doppio clic, vedete, ad esempio, qua vi compare tutto di questa. Di questa vi compare solo quella che avete esposto, ad esempio, però voi vorreste esporre anche un'altra misura, che ad esempio è il Site ID. Allora cosa fate? Non fate altro nella tabella madre, andare e fare una colonna nuova e vi fate il Relate del Site ID. Così facendo, quando fate il doppio clic, compare magicamente anche quella dimensione aggiuntiva che prima non compariva nell'esplosione. Vi ricordo che quando fate il Relate o qualsiasi altra formula, sono comunque formule virtuali, quindi vanno a impiegare la RAM e anche se qui avete 100 milioni di record, quando fate un Relate, in realtà pesano per la montare della tabella a cui è collegata. Quindi se qua ho 100 milioni di record e qua hanno 50 mila, nel momento in cui faccio il Relate, comunque il peso, l'impiego che ha la macchina è di 50 mila record, perché lui non fa altro che replicarli sull'altra tabella impegnando la RAM, perché ricordiamo che lavora tutto in RAM ed è anche per questo motivo che è molto molto veloce e riesce a trattare milionati di record rispetto al vecchio Excel. Cosa dire ancora? Vediamo, direi che con questo è tutto e ci sentiamo alla prossima parte, che vediamo la seconda parte delle misure, l'altro tipo, ed eventualmente integro ciò che mi sono dimenticato in questa lezione. Bene, vi saluto, spero sia stato chiaro, seguitemi e alla prossima. Ciao! Ciao!